Un modo certamente simpatico per così stimolare i cittadini a essere civili nella raccolta differenziata in questa ottica l'iniziativa la collaborazione di Inchiostro di Puglia usando appunto tutta una serie di immagini e di espressioni dialettali finalizzate appunto alla raccolta differenziata sui vari cassonetti nei vari punti diciamo di raccolta ne parliamo con il presidente di Chimambiente l'avvocato Giampiero Mancarelli d'altronde il dialetto fa parte della nostra cultura assolutamente sì grazie a questo connubio tra Consea e quindi Inchiostro di Puglia Chimambiente darà un servizio ulteriore che è quello di questa campagna come diceva bene Nisciuno nasce imparato come si dice e così noi stiamo imparando il dialetto tarantino tanti anni qui d'obbligo ormai sì e questo ci aiuterà quindi ad avvicinare i cittadini a scaricare l'app Riciclario dove ci sono tutte le informazioni e quindi noi siamo contenti di poter avere a breve in tutta la città presso le pensiline di Chima Mobilità questi manifesti che ci ricorderanno come meglio si deve fare la raccolta differenziata. C'è proprio un'espressione che abbiamo qui in questo cartellone guardate non mischiare non unire le scorze con le fave e penso che sia l'espressione più come dire pregnante di quella che è la raccolta differenziata differenziare differenziare differenziare. Assolutamente sì perché differenziare fa bene all'ambiente ma fa bene anche alle casse dei cittadini perché se noi miglioreremo il range della raccolta differenziata avremo anche una riduzione della taria questo miriamo con l'assessore Castronove e col sindaco Rinaldo Melucci ma chiediamo la partecipazione dei cittadini di Taranto.